Ultima cosa però, ieri già c'è stata una piazza delle opposizioni a Genova per la questione Liguria, voi però non ci siete stati, come ha detto nel suo discorso di Assemblea, non è per niente d'accordo? Non sono d'accordo perché credo sia sbagliato che i leader delle opposizioni vadano in una città, in un capoluogo di regione per chiedere le dimissioni di un presidente di regione che è agli arresti domiciliari e che è indagato per delle questioni che saranno definite nell'ambito del processo giudiziale e non è stato fatto ancora il processo e io non voglio trovarmi ad essere avvantaggiato politicamente da un'inchiesta giudiziaria che magari tra qualche mese o qualche anno arriverà a una soluzione. Sinceramente non ci sto in questa parte e credo sia un errore spostare lo scontro politico sul terreno della giustizia dall'altra parte ho tutta la diffidenza nei confronti dei garantisti della destra che sono garantisti a giorni alterni, sono garantisti con chi sta simpatico a loro e non lo sono con i poveracci e con persone che hanno problemi con la giustizia grazie alle leggi che loro introducono con nuovi reati, aumenti delle pene. Noi siamo garantisti sul serio.